Che cosa? Vedi che è solo il vestito. No, che è il vestito del vestito? No, è il vestito. No, nulla, stavo vedendo l'operazione. Fino a me l'ha fatto il vestito. Ma cosa fa? Nulla, lo tengo. Che memorizza? No! Che memorizza? Sì, davvero. Sì, davvero. No, lo sarebbe più. Però, come ho visto l'elicottolo volante? Hai visto i video? Ho preso l'elicottolo radiofomandato e ci attaccavo la prima parte della liquida aerea. E' internet. Ma te la vuoi? Gratis. Costando gente. No, ma la penna. e lui sa se c'è un mare per te ma se lo so quindi se la cittadina è una fenda è una fenda questa è questa è buona